Salve cari e carissimi tutti quanti voi che mi seguite, buongiorno, buongiornissimo, benvenuti, bentrovati, siete nel mio canale, io sono Zaira, questo è il mio messaggio del giorno per voi. Rubrica quotidiana che posto da quasi tre anni e sono molto orgogliosa che insomma ancora oggi è seguita, è apprezzata, è comunque insomma è un appuntamento quotidiano tutte le mattine alle otto in un orario un po' diciamo non consono per gli interattivi. Quindi io insomma già il seguito che ho per me è un grande, è una grande gratificazione, è una grande soddisfazione e vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Grazie, grazie a voi tutti che mi seguite, ai fedeli, ai fedelissimi e a tutti coloro che si affacciano per la prima volta do il mio benvenuto. Allora come facciamo questo messaggio? Intanto dico che il messaggio del giorno è un qualcosa che ci deve arrivare oggi quindi non è a modi oroscopo per cui non pensate che è relativo solo a oggi. Potete aprirla in qualsiasi momento del giorno anche fra un mese, varrà quella volta in cui voi aprite per la prima volta l'interattivo. Quindi si può parlare di qualsiasi cosa, ci sarà un'energia prevalente che emergerà tra tutte quante voi, quindi lavoro, relazioni, insomma tutto, si può parlare di tutto. Per cui iniziamo subito, ho deciso di utilizzare i mini tarocchi della New Vision, abbiamo i nostri meravigliosi mandala che io vi leggerò e poi abbiamo i messaggi magici delle fate. Quindi io inizio subito a mischiare i mini tarocchi della New Vision, io spero che esce qualche carta, se non esce, voi sapete io seguo assolutamente ciò che mi dicono le carte, quindi se escono subito bene, se no io le scelgo io, cioè non sto a perdere tempo perché io penso che se una carta vuole uscire esce immediatamente. Non è bisogno insistere più di tanto. Allora qui già abbiamo la temperanza, l'imperatrice, abbiamo ragazze incredibili, qua sono uscite altre carte, mi sa che abbiamo completato, benissimo, 2467, perfetto. Ragazzi abbiamo la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5 arcani maggiori. Cosa significa, voi mi direte, significa, ah e qua abbiamo anche il sesto, no vabbè, non ho parole. 6 arcani maggiori. Questo significa che questa stesa è molto pregna di significati, è molto forte, quindi fortunati chi si ritrova in questa stesa. Allora io adesso ovviamente qui devo mischiare un po' questi mandala, io ovviamente che cosa devo fare, voi vi fiderete di me, io chiudo gli occhi perché, beh, non è che mi ricordo adesso tutti i mandala che significano, però io vi assicuro, chiudo gli occhi, prendo uno dal centro così quello che esce, esce, esce questo, perfetto. Allora poi andiamo a vedere appunto i messaggi magici delle fate, che cosa ci danno. Aspettate, da qui mischio meglio. Quindi sapete che queste due carte, che diciamo due mazzi che io metto lì sopra, sono, o questa è l'indicazione dell'assesa qualcosa, insomma è quello, è un messaggio subliminale in più, cioè qualcosa che può essere o inerente a ciò che poi andiamo a parlare, oppure anche un messaggio a parte. Allora qui non vuole uscire niente, per cui prendo io una carta dal centro, benissimo. Andiamo avanti, quindi qua già vi ho detto le carte in uscita. Temperanza, l'imperatrice, il mago, il sole, il papa, cavaliere di pentacoli, di denari, paggio di bastoni e abbiamo fondo mazzi l'imperatore. Mamma mia. Allora la carta dell'indicazione dieta vegetariana, quindi qua si parla di una rigenerazione. Sapete che ovviamente può essere simbolica la nuova dieta, la fonte di energia, la salute, la lucidità, la capacità di espressione maggiore. Quindi quando si parla di una dieta si cambia una dieta, si va, ecco qua è simbolica la dieta vegetariana. Qui voi avete bisogno di un cambiamento energetico, di lucidità, di capacità di espressione maggiore. Quindi anche può partire assolutamente anche dall'alimentazione perché il nutrimento nostro del mangiare è simbolicamente anche il nutrimento dell'anima, dello spirito e delle aspettative. Allora qui questo mandala, qui abbiamo il mandala che si chiama Agishamur. È un antico amuleto norvegese, veniva tenuto in molte case per proteggere dagli elementi e come portafortuna. Quindi qua avete un mandala protettivo, ok? Vi protegge questo mandala che è stato scelto. Andiamo a vedere, come sapete, per chi mi segue magari lo sa, però ve lo dico. Qua c'è un pensiero di un filosofo e poi c'è il mio pensiero. Allora, e poi esce, io ho voluto scrivere un no o un sì, per dire che questa carta può avere un senso negativo o positivo. Ma ciò non significa che il no è un negativo. È un no dovuto al fatto che vi sta mettendo in guardia su un qualcosa di negativo che magari avete nella vostra vita. Cosa ci dice questa carta? Il tempo è un grande insegnante, ma sfortunatamente uccide tutti i suoi alunni. Nel senso che, insomma, il tempo è vero che col tempo noi capiamo tutto. Però non dobbiamo proprio aspettare alla fine dei nostri giorni, perché poi alla fine, magari quando l'abbiamo capito una cosa, è troppo tardi, no? Perché il tempo passa anche per noi, non solo per la nostra mente, anche per il nostro corpo. Allora, poi quello un po' il pensiero che ho avuto io, vedete questo qua di Zahira, è questo. Non perdete tempo quando siete sicuri di cosa volete. Agite subito, perché le esperienze devono servire a capire cosa vogliamo e cosa non vogliamo. Quindi questo è un po' il significato che abbiamo dato io, il pensiero del filosofo. Però io adesso vi voglio proprio leggere questo mandala. Cosa significa questo mandala? Intanto andiamo a vedere i colori, no? Allora, qui abbiamo, predomina il rosso e il nero, però più il nero che il rosso. Quindi andiamo dal nero. Il nero è equivale al dolore. Equivale a come si, diciamo, si legge in, come posso dire, il dolore interiore. Il dolore che noi vogliamo sfuggire, ma che è dentro di noi. Quindi qua abbiamo a che fare, voi avete avuto a che fare con un dolore, con del dolore nella vostra vita o in questa situazione che poi andremo a descrivere. Poi abbiamo il rosso. Quindi qua il contrasto del rosso ci parla di vitalità, di energia e della forza delle intenzioni. Quindi qua comunque abbiamo il dolore, ma abbiamo anche la vitalità. Giusto? Quindi qua abbiamo a che fare comunque con un qualcosa che siamo, abbiamo la vitalità di combattere questo dolore. Allora, il mandala è di forma circolare. Quindi quando è di forma circolare il cerchio rappresenta la coscienza, rappresenta il ciclo della vita. Quindi qua, vedete, come cerchio, voi nella vostra vita, ok? State, avete attraversato un, vedete qua c'è una striscia nera, il dolore, ok? Però nello stesso tempo avete la vitalità, avrete la vitalità, vedete, di cambiare, di trovare l'energia e la forza interiore per avere un cambiamento. Ed ecco qua quando ci dice la nuova dieta e fonte di energia. Quindi qua voi, qua vi impone un cambiamento. Adesso centrale, andiamo a leggere i tarocchi. Centrale abbiamo il sole. Il sole è altra vitalità, è energia pura. È la chiarezza. Avere chiaro cosa e con chi abbiamo a che fare. Ora, io vedo un'imperatrice, una temperanza, un mago, cioè qua ci sono tantissimi, tantissimi arcani maggiori. Ed è un'assesa, come dicevo prima, molto pregna di significati. Quindi qua voi avete chiaro in voi una situazione, qua potremmo parlare anche di un amore karmico, vedete? Perché abbiamo imperatrice e imperatore. Però queste carte della new vision, come vedete, alcune possono essere, vi faccio un esempio, vedete questa imperatrice dalle spalle, ok? Invece l'imperatore qua è frontale. Quindi diciamo che la new vision di questi tarocchi, anche qua vedete nella temperanza, dalle spalle, ok? Quindi ci sono alcune carte che vengono frontali, altre che vengono appunto di spalle. E questo ovviamente, diciamo, influenza un po' il significato della carta. Quindi voi avete qui chiaro che volete una situazione non più manipolatrice, una situazione dove siete affascinati da un qualcosa che sembra essere in un modo invece di un altro. Perché comunque nella situazione del mago abbiamo l'illusionista, abbiamo un personaggio che ha a che fare con tutti e quattro gli elementi. Per cui è una persona che è in grado di farci anche vedere cose che poi non corrispondono alla realtà. Quindi noi stiamo respingendo a livello energetico questa situazione. Infatti voltiamo le spalle perché non c'è stata abbastanza temperanza e questa sarà la vostra situazione del dolore, no? Perché qua voi avete a che fare col mandala sia con il dolore che con la vitalità di qualcosa di nuovo. Per cui voi avete chiaro che ormai non volete più dare le spalle a situazioni del genere, o se parliamo di una situazione in particolare, a questa situazione in particolare. Se parliamo di una sorta di modus operandi che voi magari nella vostra vita ne avete conosciuti vari, quasi arrivate al punto che adesso sfuggite a questo genere di situazioni. Perché vedete, avete capito che dovete guardare ad altro. Vedete anche la cicogna con i due bambini ci danno una rinascita e l'angelo qua l'avete di spalle. Quindi voi comunque è come se questa situazione vi portava a una sorta di intemperanza nella relazione. Per cui avete chiaro invece che volete un qualcuno che vi possa dare delle emozioni, qualcuno che vi possa affacciarsi in maniera anche come novità, perché comunque il paggio dei bastoni ci parla anche di emozioni, di messaggi, di una persona che comincia a venire in maniera emozionale. Quindi qua io non escludo che voi da una precedente relazione, che magari vi ha dato dolore, state incominciando a recuperare, avere l'energia per andare verso un qualcosa di meglio, di più stabile, che magari inizierà in maniera appassionale, così come un'amicizia, qualcosa di emozionante, di cauto, che magari prenderete tutte le vostre, diciamo come dire, precauzioni prima di buttarvi in questa situazione, ma qui volete una situazione più protettiva, più calma, più stabile, più ufficiale, insomma, probabilmente vi state affacciando al nuovo, e nuovo sia, perché poi come fondo mazzo abbiamo l'imperatore, e l'imperatore per quanto è un'energia un po' predominante, un po' qui avrete sicuramente la conoscenza come una persona importante, importante a livello anche sociale, oppure solo come personalità, con una bella personalità, ma voi siete imperatrice, quindi sia che sia una personalità del papo, dell'imperatore, avete la forza, perché qua avete un'energia, una vitalità, la forza di andare a creare cose nuove, quindi questo è il messaggio di oggi. Quindi questo messaggio vi invita intanto a fare un cambiamento, nuove energie, nuovo giro, nuova corsa, avete sofferto, è vero, ma è chiaro in voi, vedete che magari quello che avete lasciato dietro alle vostre spalle può essere stata una cosa magari anche bella coinvolgente, però vi ha fatto soffrire, perché evidentemente avevate un rapporto un po' non temperante e manipolativo. Mentre invece adesso vi approcciate a qualcosa di più serio, di più importante, o se non vi è e c'è nessuno all'orizzonte, ma il messaggio vi dice andate avanti, attuate questo cambiamento, ok? Perché avete questo simbolo che è un portafortuna, quindi vi darà la realizzazione, perché l'imperatore è anche una persona stabile, è una realizzazione di qualsiasi cosa si ambisce nella vita, perché l'imperatore ha il potere in mano, impera su tutto e su tutti, quindi voi potete arrivare a una realizzazione totale. Quindi questo è il messaggio per oggi per voi. Io non ho altro da dirvi, vi ringrazio di essere stati qui con me, mi raccomando, vi do appuntamento a domani, un abbraccio di luce a tutti quanti voi. Ciao!